L'Università degli Studi dell'Insubra, oltre che a svolgere i suoi ruoli istituzionali nella didattica e nella ricerca, è pienamente coinvolta anche nel cosiddetto svolgimento della terza missione, ossia l'integrazione dell'Università e del ruolo dell'Università all'interno della società e delle esigenze che la società dimossa. In questo contesto, il premio Ecologia Città di Varese, dedicato a Salvatore Furia, è un'ottima occasione per promuovere l'approccio scientifico e la divulgazione culturale in sinergia con il Comune di Varese per promuovere queste attività di approfondimento e di conoscenza sul nostro ambiente, sulla tutela della biodiversità. L'Università degli Studi dell'Insubra, insieme alla Società Astronomica Schiapparelli, insieme al JRC di Ispra e insieme a ARPA Lombardia, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, ha svolto un ruolo attivo nella valutazione dei curricula inviati dai candidati al premio Mario Pavan. Il premio Mario Pavan è un premio dedicato ai giovani ricercatori che iniziano la loro carriera, premiando quindi dei dottorati che hanno svolto attività di ricerca nell'ambito della tutela della biodiversità.